Ciao! Ciao a tutti amici di Vapers 4 Passion! In questo video proveremo un nuovo liquido di Ejui Stivo! Stiamo parlando del Dekiu! Formato scomposto 20 ml aroma 30 ml di glicerolo e la base di acqua senza nico Proviamo a 0 di nicotina il nostro è Dio in RDA 7 spire su punta da 3,5 di Chrome 9022K Questo liquido dovrebbe essere un latte a Nesquip Ricordate il wiki? Eccolo ma migliorato Molto veritiero il sapore ad altri vantaggi diventa un bello leggero ma il flavor diventa veramente una bomba e per il liquido che è non imbratta neanche troppo le cose Se il video vi è piaciuto mettete un bel like al video qua sotto e iscrivetevi al nostro canale Se siete su Facebook mi piace Vapers 4 Passion Io sono Cata Io sono Miles E io chi sono? Trovate un nome Scrivetelo nei commenti Ciao Scriviti al nostro canale Scriviti al nostro canale